Saluto agli amici di Radio Snaps, siamo alla Dispensa Pub a Mirto in un'occasione molto particolare, giusto? Una serata dedicata ai bambini. Una serata dedicata soltanto a loro, siamo accanto in questo momento a due associazioni che si dedicano esclusivamente ai bambini. Quando noi non pensiamo a loro, loro 365 giorni all'anno ci pensano, sono accanto a loro, alle loro famiglie, danno assistenza, danno contributi se occorre. Ecco, è giusto che ogni tanto anche noi pensiamo a loro. Purtroppo è stata una serata particolare, però penso che stia andando bene anche se ci sono stati problemi atmosferici. Sì, troviamo sempre la soluzione giusta, purché ci sia musica e bella gente. È una serata particolare, delle associazioni che si stanno occupando per i bambini, una parte molto delicata della società sicuramente. Sì, sono due associazioni, in particolare l'associazione siciliana per la leucemia, che ormai opera da 25 anni non soltanto nel territorio qua di Neibro, ma di tutto il territorio siciliano, è in contatto con degli ospedali siciliani e quindi si occupa in particolare di loro. L'altra è l'associazione Nadia Onlus, è un'associazione che ha sede a Verona ma opera anche in Sicilia per quanto riguarda l'adozione internazionale, ma opera anche e soprattutto su progetti internazionali per l'infanzia in Africa in particolare e in Etiopia in particolare. Noi a Mirto siamo contenti di ospitare tutte queste associazioni che fanno sicuramente tanto. Sicuramente sì. Questo tipo di spettacoli e di serate si devono ripetere più spesso, soprattutto questo per i bambini è una cosa particolare. L'amministrazione vuole essere sempre vicina a questo tipo di iniziative, anzi spingo il mio amico qua, Ialuna, di farne ancora qualcun'altra e di chiederci anche di intervenire come amministrazione, non c'è nessun problema. Ho visto che sono sempre sensibili le persone a queste cose, speriamo anche che abbiano un risultato economico, perché alla fin fine è quello l'importante, riuscire a fare qualcosa con i soldi di donazione delle persone. Noi anche con la radio siamo un gruppo di giovani e ci fa piacere fare anche noi la nostra parte e quindi collaborare in questi grandi eventi. Quindi un ringraziamento particolare va a voi, la serata continua e andremo ad ascoltare altri gruppi che si esibiranno qui alla Dispensa Pub. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie veramente.